Ciao a tutti ragazzi e qui è RandoShock che parla Volevo dirvi giusto due cosine Allora una è che il let's play che stavamo facendo ultimamente Purtroppo è andato a rotoli e perché stavo registrando l'undicesimo episodio Perciò non c'entra un cazzo Stavo registrando l'undicesimo episodio e mentre registravo sono andato a esplorare una caverna Per pensare, che cazzo è? Dicevo per pensare al mondo, a un mio amico che stavamo facendo tipo un duel Che si era ucciso e era caduto dalla sedia E' un zombie, ho ucciso e adesso io tranquillo sono andato a spawnare di nuovo Cioè ho fatto rinasci e niente non mi ha fatto rinascere né a una casa o nell'altra E allora niente non mi andava più sinceramente di farlo Di andare a cercare le case oppure crearmene un'altra Se no alla fine il mondo diventava tutto di case mia Che cazzo ho fatto? Comunque Qui Siamo subito In ocean Come potete vedere Quella di Jumpy Tech Lì, sì, bravissimi Quella che ha fatto Jumpy Direi immediatamente di iniziarla Per chi non sa che cos'è Questa appa è appunto Sta in una... Avete presente Skyblock? Ok, se non l'avete presente Stai in mezzo a nulla Io sto in mezzo a nulla Ehm... Stando in mezzo a nulla Dobbiamo sopravvivere Allargando l'isola, ampliandola Qui abbiamo una cesta diciamo per partire Abbiamo un diamante, una canna da pesca, un biscotto, una corticella Un osso Uno cinque ossa Una polo di ferro Un carbone, un pesce eccetera Quindi noi Insomma dobbiamo sopravvivere Ehm... Mi hanno detto Anzi ho visto più che mi hanno detto Che Ottimo intanto Facciamo una cosa Mi hanno detto che C'è in questa mappa Ci sono degli approvvigionamenti Tipo C'era una cassa Quindi noi ora prendiamo la pala E andiamo giù 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 Eccoli lì Perfetto Ora Ora non me la fa aprire E ho paura di scavare Perché Infatti entra acqua Benissimo Dobbiamo fare la stessa cosa di qua O di qua Oh Benissimo Non sapevo sinceramente cosa c'era Allora Direi di iniziare subito ad ampliare un po' l'isola Va benissimo così Sicuramente avrò perso tanti di quei ramoscelli che Che li devo andare a prendere Cazzo Qui abbiamo pure Abbiamo Come è che si chiamava quella cosa? La chi ha? Vabbè non me ricordo Quella cosa insomma Allora Magari questa parte Ve la velocizzo Oppure la taglio Ok perfetto Credo che per oggi basti Io direi di posare qualcosa No Che cazzo ho fatto? Allora Andiamo un po' giù No troppo giù Ok Vabbè queste qua lasciamole qui Sicuramente Ci dovrà essere un Una caverna Da qualche porta Io poi sono un coglione Perché comunque Benissimo Ho lasciato questo segno in modo da Lasciato il segno in modo da In modo da Da sapere dove sta la La caverna Insomma L'approvvigionamento Allora Io direi di Creare immediatamente Un working bench Sempre se si dice così Degli stick E ci creiamo Subito Un basto Molto E ci creiamo subito Un piccone E una zappa Ora voi vi chiederete Perché ho la zappa E perché si Perché noi Prendiamo questa Ecco qui Ecco cosa serviva la zappa Sono molto contento Perché Fraps Ho appena scaricato Fraps Perché tutti i programmi Che avevano Non mi piacevano molto Perché avevano molti errori Fraps era l'unico Però non l'ho mai scaricato Perché prima mi dava un errore Che dopo un po' si bloccava Ma Adesso Non mi sta dando alcun problema Finora Direi di creare anche Di creare Anche un letto Che si faceva così Voi quando avete le cordicelle Ok Andiamo in caverna Immediatamente Ok Perfetto Siamo molto in profondità Non vorrei Tipo adesso ci prendiamo soltanto Un po' di pietrisco Giusto per creare Una cosa Quando apremmo legno Sufficienza Prenderemo anche qualcosa C'è questo ritmo Ok Risaliamo non so ragazzi aver rotto il cazzo a scendere dobbiamo risalire sì dobbiamo risalire sì perché non vorrei morire proprio oggi qui è notte quindi direi di dormire sto tranquillo così tanto so per tipo per spawnare per far spawnare i mostri ci vogliono tipo 24 blocchi di differenza da me al mostro quindi allora ci sono tanti progetti tipo no quando avremo tipo ferro sufficienza che poi non ne serve anche tanto ci faremo anche il generatore di come che si chiama di pietrisco la pietra infinita poi l'acqua ce l'abbiamo infinita anche la terra cioè non è infinita però comunque perché non abbiamo talmente tanta che possiamo creare un mondo comunque io mi sono ispirato alla alla serie di jumpy tech lo dico non mi faccio nessun problema a dirlo cioè ho pensato a quella tipo pure le sfide no costruire la casa il passaggio del nether quelle cose lì prendo spunto da lui non non me ne vergogno dire ciò pesca un pesciolino sanpey 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 pescatore dei coglioni miei dai su pesca pesciolino 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 lo so che abbocchi pesciolino pesciolino non vuole abboccare il pesciolino ti voglio solo prendere e mangiare non è che altri eccolo ce lo andiamo perfetto allora ragazzi io vi saluto credo che il video può terminare qui questo primo video ok perfetto proprio no vabbè a parte di scherzi non mi sto preoccupare più di tanto allora mi serve un blocco di terra mi sono uscito la prima volta fail vabbè entriamo da qua tanto dai chiamamo io di nuovo cazzo sono morto di nuovo non ci credo si vabbè ma tanto dai muori su ok vabbè non valgono ste morti tanto alla fine boom moriamo di nuovo non siamo morti non siamo morti ci credo vabbè ho fatto un fail capirai ehm dicevo arriviamo in superficie di nuovo chiudiamole il buco perchè è pericolosissimo ok allora scusate il fail i due fail niente io vi saluto e ci vediamo nel secondo episodio di minecraft zion spero mi scusiate per il disagio del let's play perchè stava veramente piacendo oddio non so se stava piacendo ma stavo facendo molte visualizzazioni più di 30 tipo un video ce n'erano 30 le altre 7 si ok però comunque ero abbastanza soddisfatto mi sono dispiaciuto un po' però va bene dai ricominceremo questa serie in in oceano va bene ragazzi allora il video è finito vi saluto lasciate un like commentate eventuali problemi andatevi a iscrivervi anche al canale del designer del mio logo quello che tengo io perchè è veramente molto bravo niente io chiudo il video bella raga ciao a tutti i